Ehi Barbie, qual è il ballo preferito di una tartaruga? Ti dirò che non lo so. È il lento! Questa è buona, Chelsea. Immagina se ballassero davvero. Sarebbe carino. Forse possono farlo davvero. Immaginiamo la nostra amica musicista in spiaggia. Oh, ciao piccolina. Dimmi a te piace la musica? Oh, è pericoloso attraversare la strada. Soprattutto per una tartaruga piccola come sei tu. Ti aiuto io. Ehi Barbie, guarda chi c'è. È la nostra amica musicista. Fermiamoci a salutarla. Ehi amica, che cosa fai? Ciao Barbie. Ciao Chelsea. Stavo suonando quando ho deciso di aiutare questa tartarughina ad attraversare la strada. Oh, che carina! È nata da poco. Le tartarughe depongono le uova nella sabbia. E quando si schiudono, i cuccioli devono riuscire a entrare nell'acqua da soli. Guardate, ce ne sono altri due. Aiutiamo anche loro ad attraversare. Andate pure, piccoline. Così, sane e salve. È molto meglio. Oh, oh! Guardate, ne arrivano altre! Oh no! Non possiamo aiutarle tutte! E se potessimo, mi è venuta un'idea! E se potessimo, mi è venuta un'idea! E se potessimo, mi è venuta un'idea! E se potessimo! E se potessimo, mi è venuta un'idea! 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 E se potessimo, mi è venuta un'idea!